Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi gli ultimi manga che sono entrati nella mia libreria. Non vado a sorridere perché prima di buttare giù questo video mi sono detta cavolo non ho niente da mostrare, in realtà non ci sono tantissimi nuovi manga e invece è venuta fuori una pila bella sostanziosa. Vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete seguirmi anche su Instagram dove ci vediamo ogni giorno con consigli e chiacchiere e se volete potete offrirmi una simbolica tazza di tè attraverso Ko-fi, il link è qua sotto in descrizione. Grazie mille! Partiamo con alcuni manga che mi sono arrivati a settembre da parte di J-pop e di cui mi avete già sentito parlare almeno una volta sul canale. Partiamo con Colun Generic Romance di Jun Mayuzuki. Sapete quanto io abbia adorato questo primo volume? Se non sbaglio alla fine del mese o a dicembre uscirà il seguito e penso che il giorno dell'uscita sarò lì davanti alla fumetteria ad attendere perché sono curiosissima. Al finale di questo primo volume lascia tante tante domande quindi devo assolutamente sapere. Ci troviamo in una città, Colun, che ricorda un po' Hong Kong. Ha un'atmosfera molto decadente e noi seguiamo due persone che lavorano in un'agenzia immobiliare. Tra i due sembra esserci del sentimentale ma vedremo. I disegni comunque, come al solito, di questa autrice sono secondo me pazzeschi, veramente molto belli. Sempre J-pop mi aveva poi inviato il cofanetto di Giusella Tigre e i Pesci. Ci sono due numeri che compongono questo fumetto, la storia originale di Seiko Tanabe, mentre i disegni di Nao Emoto. Qua sul canale trovate la recensione anche del film e il confronto film e manga quindi nel caso vi lascio il link qua nelle schede e qua sotto in descrizione. Brevemente questo fumetto parla di un incontro fra due ragazzi sui 20 anni. Lui studia all'università, qualcosa che potremmo definire biologia marina, ha il sogno di andare però a studiare all'estero e per questo sta mettendo da parte dei soldi. Un giorno incontra una ragazza sulla sedia a rotelle, Giusella, che ha più o meno la sua età ma non ha vissuto le sue stesse esperienze perché ha vissuto principalmente chiuse in casa. La nonna infatti la fa uscire sotto sorveglianza soltanto la sera in modo che nessuno li possa vedere e da questo incontro nascerà una sorta di opportunità di lavoro per questo giovane ragazzo perché la nonna di Giusella gli chiederà appunto di fare da assistente, da badante alla ragazza in cambio di un po' di soldi. Il primo volume del fumetto mi era piaciuto tantissimo perché l'ho trovato molto simpatico e anche divertente. Il secondo volume, secondo me, cade un po' in eventi imprevedibili, particolarmente forzati. Nel complesso però è una storia che a me è piaciuta molto. Sempre i fumetti J-pop ma che ho recuperato io sono il numero 2 di Beyond the Clouds di Nike. Una storia un po' fantastica che mescola creature immaginarie, magia, steampunk. Ha un'atmosfera molto da videogioco fantasy, tipo Final Fantasy o Kingdom Hearts. Questo secondo volume mi è piaciuto un po' di più rispetto al primo che è leggermente introduttivo. Questo è decisamente più avventuroso. A breve dovrebbe uscire anche il terzo e non vedo l'ora. I disegni sono poi molto adorabili. Fumetti invece che devo ancora leggere sono il numero 2 e il numero 3 di Casane. Una serie che avevo trovato particolarmente interessante col primo volume perché indaga a fondo l'aspetto psicologico della protagonista. Una bambina dal volto non particolarmente carino e che viene quindi presa molto spesso di mera dai suoi coetanei. Sua madre era invece una donna bellissima. Ora non c'è più ma le ha lasciato in eredità un rossetto che le permette di assumere il volto di qualsiasi persona. In tantissimi mi avevate consigliato di proseguire con questo manga e quindi mi sono decisa. Ma devo trovare il tempo per effettivamente leggere questi volumi. Ho preso poi il primo volume di Obsessed with a Naked Monster di Ogeretsu Tanaka autrice di Boys Love che a me piace particolarmente. Ce l'ho in lettura al momento. Non l'ho ancora terminato ma vi dico già che è una storia abbastanza esplicita. Quella che ci viene raccontata qui è una storia d'amore matura, particolarmente vissuta e sentita che riguarda anche un aspetto più oscuro della relazione. Infatti uno dei due protagonisti in precedenza non trattava benissimo il suo compagno. Ecco, è arrivato anche a mettergli le mani addosso. Come vi dicevo io sono soltanto all'inizio ma per ora ci sono già state delle scene particolarmente forti anche dal punto di vista psicologico. Quindi sono molto curiosa di proseguire e vedere come gestirà il tutto l'autrice. Assieme a questo primo volume c'era anche quella che credo essere una piccola storia a parte tipo spin-off. Altro numero uno Boys Love che ho deciso di recuperare perché amo particolarmente l'autrice è Gelosy di Scarlett Berico. Questo lo devo ancora leggere e devo dire che ho aspettato un po' recuperarlo perché non ero sicurissima di questa storia nonostante mi piaccia molto l'autrice. Non ero molto sicura della storia perché si parla di Yakuza. E non so per quale motivo mi spaventano un po' le storie che tra l'altro ho notato ci sono diversi Boys Love che trattano l'aspetto della mafia dell'organizzazione criminale e non so mi spaventa un po' come tema all'interno di una storia tra virgolette d'amore e quindi avevo diciamo una sorta di pregiudizio che spero vivamente di abbattere con questo fumetto per poi magari recuperare anche altro. Come vi dicevo so che ci sono almeno altre due storie Boys Love con questa premessa. Poi magari se siete curiosi vi farò sapere senz'altro su TikTok che ho visto sul mio profilo almeno ci sono tantissimi amanti appassionati di Boys Love quindi vi aggiornerò sicuramente. Ho recuperato poi il primo volume di Kokunicchi una storia quotidiana che vede per protagonista una giovane ragazza se non sbaglio di 16 anni che ha appena perso la famiglia e per questo motivo si trasferisce a casa della zia che aveva un rapporto un po' teso con la madre della ragazza ovvero sua sorella. Non andavano particolarmente d'accordo in più la zia ha un animo molto riservato non è abituata a vivere con altre persone quindi la loro convivenza metterà a dura prova tutte e due le donne dovranno imparare a conoscersi e a rispettare i propri spazi è una storia quindi sì di vita quotidiana ma anche di dolore o meglio dell'elaborazione del lutto perché entrambe comunque hanno perso da una parte una una sorella l'altra invece una madre vediamo come affrontano questo momento particolare delle loro vite so che è già uscito il secondo volume infatti mi devo affrettare a recuperarlo intanto ci ha raggiunti Taki ciao cucciolino qua di più anche a me ho preso poi il volume 12 13 14 di Beastars perché avevo appena finito di vedere la nuova stagione dell'anime la seconda che trovate su Netflix e quindi mi son detta no io devo sapere come va avanti quindi sono tornata di nuovo in fissa con questo fumetto e la storia terminato l'anime prosegue proprio con il volume 12 del manga la storia era partita come qualcosa di scolastico slash misterioso in questa società dove non ci sono umani ma appunto animali che frequentano però la scuola hanno una vera e propria società come la nostra però la difficoltà sta nella convivenza fra carnivori ed erbivori il fumetto infatti parte proprio con purtroppo la morte di uno studente erbivoro che è stato divorato probabilmente da un compagno di scuola carnivoro alleggia quindi questo mistero ma man mano la storia andando avanti si fa sempre più matura più sentita affronta vari temi fra cui il razzismo la discriminazione oltre a la formazione e la crescita perché comunque i personaggi sono degli adolescenti io lo trovo molto interessante ho letto già il 12 mi è piaciuto tantissimo proseguirò con gli altri mi ero dimenticata di farveli vedere mentre stavo parlando di fumetti jpop comunque ho recuperato anche il numero 3 e 4 di shadows house il terzo l'ho letto e mi è piaciuto molto devo dire che nel momento in cui la storia ha iniziato ad affrontare anche altri personaggi è secondo me diventata più interessante il quarto lo devo ancora leggere ma sono decisamente curiosa brevemente per chi non conoscesse questo fumetto ci troviamo presso una famiglia aristocratica molto misteriosa perché i membri sono infatti come delle ombre sono totalmente neri non hanno un vero e proprio volto e per questo motivo assumono dei domestici delle bambole viventi in modo che possano fungere da loro volto e per questo motivo devono vivere a stretto contatto e la bambola vivente deve proprio impersonare lo stato d'animo l'essenza del nobile che tra virgolette rappresenta mi sono arrivati poi un po' di fumetti da parte di planet manga che non aspettavo minimamente è stato un vero e proprio shock soprattutto perché all'interno del pacco c'erano i due bundle dell'ultimo numero dell'attacco dei giganti quindi io ho sostanzialmente ora tre numeri 34 dell'attacco dei giganti perché io mi ero fiondata appena possibile in fumetteria per recuperare il 34 l'ultimo numero già letto non fate spoiler però nei commenti per favore comunque io avevo recuperato il numero 34 e poi pochi giorni dopo mi sono ritrovata in bundle a casa e sono rimasta veramente shock comunque questo è il volume classico che tra l'altro qualcuno su tiktok mi ha fatto notare che a differenza di tutti gli altri volumi è l'unico con la costina colorata mentre la versione variant che ne hanno fatto sempre del numero 34 ovvero questa qui ha la costina nera come tutti gli altri volumi che è una cosa che ha poco senso perché cioè io capisco la specialità dell'ultimo numero quindi ci può stare a me non disturba particolarmente ma è una cosa che mi hanno fatto notare e da allora ci sto pensando perché la variante come tutti gli altri volumi mentre l'ultimo numero invece diciamo quello speciale non ha senso vabbè lasciate perdere questi deliri comunque mi hanno inviato come vi dicevo i due bandola assieme a questi due volumi c'era il quinto volumetto delle short stories e l'attacco dei giganti beginning questo volume contiene gli storyboard presentati nel 2009 le tavole che hanno permesso all'attacco dei giganti di guadagnarsi uno spazio all'interno della rivista e quindi di diventare di lì a poco uno dei manga di maggior successo di sempre è veramente una chicca bella per chi è appassionato e segue con trasporto questa serie comunque vi dicevo ho già letto il numero 34 intanto è spuntato il sole all'improvviso in questa uggiosa giornata di novembre non fateci caso perdonate i continui cambi di luce ma purtroppo va così ho già letto il numero 34 mi è piaciuto e secondo me è una fine coerente con quella che è la storia però devo ancora metabolizzarla cioè devo devo ancora capire realizzare che è finita questa serie che è finita in questo modo me lo aspettavo comunque perché ormai giunti a questo punto secondo me non poteva finire diversamente però ci devo ancora rimuginare gli altri fumetti che mi sono arrivati da Planet sono Shy di Bukimimiki un fumetto che sarò sincera non conosco come proteggere l'umanità con i tuoi straordinari poteri se il vero nemico che devi affrontare è la timidezza colpi di scena e personaggi fuori dagli schemi in una storia di supereroi deliziosamente alternativa sapete che non sono una grande fan dei supereroi del mondo dei supereroi però vedremo il fatto che la protagonista sia timida non lo so mi incuriosisce ovviamente poi vi farò sapere e poi mi è arrivato anche in questo caso era un bundle il primo numero di Doro e Doro che io avevo già letto perché mi era stato prestato da una mia amica assieme a quello che penso sia il nuovo fumetto dell'autore ovvero Dai Dark Zaha Sanko ha un problema le sue ossa sono in grado di esaudire qualsiasi desiderio e proprio per questo quasi l'intero universo ha tanta voglia di estrargliele dal corpo dall'autore di Doro e Doro una folla avventura spaziale intrinsa di horror e dark humor questa tra l'altro è un'edizione variant che credo non sia venduta separatamente si trova soltanto appunto in questo bundle e la trovo particolarmente carina dietro ci sono degli omini con la testa di Gyoza altro fumetto che ho recuperato e di cui vi ho parlato nell'ultimo video dedicato alle ultime letture è My Genderless Boyfriend una nuova serie di Tameku questo infatti è il primo volume e devo dire che lo attendevo tantissimo mi incuriosiva particolarmente questo fumetto per via della presenza di un personaggio genderless però sono rimasta un tantino me perché il fumetto è molto carino molto simpatico di intrattenimento Meguru cura particolarmente il suo aspetto perché vuole presentarsi al meglio per la sua fidanzata ed è una persona molto popolare sui social mentre Wako la ragazza è una ragazza qualunque non ha tra virgolette nulla di speciale e quindi questo porterebbe a pensare che ci sia uno squilibrio nella coppia in realtà no e la cosa che mi è piaciuta di più è proprio questo la coppia si sostiene si supporta come io mi immagino debba essere in ogni tipo di relazione quindi è stato molto bello vedere questo aspetto però il fumetto rimane poco originale un po' superficiale anche questo aspetto genderless è trattato soltanto dal punto di vista estetico quindi mi ha lasciato un po' un po' così però sono curiosa di leggere il seguito infine da Bao mi sono arrivati il quarto volume della taverna di mezzanotte di Yaro Abe che devo ancora leggere ma sono un tantino indietro con queste con questi volumi perché mi leggo una storia ogni tanto è proprio il mio fumetto coccora perché è una raccolta di storie comunque quotidiane che girano attorno a questa taverna che apre soltanto a mezzanotte quindi si mescola la tradizione del cibo e il cibo in generale ha la vita di tutti i giorni e poi mi è arrivato il primo volume di Futagashira di Natsume Ono se non sbaglio la serie è completa in sette volumi sono molto curiosa di leggerlo per l'ambientazione storica tra virgolette antica un po' come è successo nel fumetto nei fumetti le anime di Edo e i doni di Edo capendo che nella banda di cui fanno parte non c'è più posto per loro Benzo e Soji decidono di andarsene determinati a compiere una grande impresa ma nel Giappone del periodo Edo è già un'impresa capire cosa voler fare della propria vita non sbaglio la banda di cui si fa riferimento è una sorta di banda criminale di ladri qualcosa del genere curiosissimo anche di questo vi farò sapere molto presto bene questi erano tutti i nuovi manga che mi sono arrivati e che ho recuperato fatemi sapere qua sotto nei commenti di quale vorreste vedere prima una sorta di non dico recensione ma magari un aggiornamento qua su Instagram su TikTok eccetera ovviamente poi fatemi sapere anche che cosa ne pensate di queste storie se le avete già lette io vi ringrazio per avermi tenuto a compagnia fino a questo momento ci vediamo alla prossima ciao ciao